Grazie Presidente. Vorrei fare un'osservazione e spiegare meglio anche quel che è successo, perché dal verbale che ha letto il Segretario Manino non si evince la gravità dell'assenza del Governo. Lei anche Presidente gliel'ha fatto e la ringrazio per questo notare, però non è chiaro dal verbale che il Governo è arrivato in ritardo ad un'interpellanza urgente e questo è un comportamento vergognoso da parte del Governo. Ricordo al Governo che è più importante il Parlamento delle televisioni, perché il sottosegretario Vicari, lo dico ai colleghi anche che erano assenti, è arrivato in ritardo perché si trovava in un talk show nella trasmissione Agora e ha fatto aspettare quest'aula, sì di questo si tratta Presidente, mezz'ora prima di arrivare in aula e di poter rispondere alle interpellanze urgenti. Non mi pare da questo verbale si evinca la gravità della questione, per cui volevo sottolinearlo. Grazie Presidente. Grazie Onorevole. Il verbale ovviamente è quello sintetico, quello che è stato letto in aula. Sapete che poi c'è il resoconto stenografico dal quale si evince totalmente anche la seduta e quindi anche l'opinione della Presidenza sul ritardo del sottosegretario Vicari. Comunico... No, non può rintervenire, mi dispiace deputato.